Io sono Stefano, la mia paura più grande è la paura che le persone che voglio bene non ci siano più. Il film che mi ha spaventato di più non è un capolavoro, è un film minore di quelli tratti da Stephen King, Pets and Metry. Grazie per la visione!